Quest'ultima venti minuti faremo un po' più di filosofia, però sempre utile e applicate. Cioè, noi stiamo studiando il corso di analisi 1, uno potrebbe porsi il problema, ma tante di quelle cose che tu mi fai come esercizi, io potrei risolvere tranquillamente con un computer. No? No! Perché prima di tutto io mi devo assicurare che tu sappia leggere quello che il computer ti dica. Tu per avere i risultati dal computer devi innanzitutto saper immettere correttamente i dati nel computer. Anche quando sono usciti i navigatori c'è chi ha messo Carpi invece che Capri e è partito dalla Germania o dalla Norvegia e è andato a finire vicino a Modena. E in quel caso è ancora andato bene, perché Carpi, non dico che sia di strada, però insomma non è che arrivare a Capri ci vuole modificare. Però c'è chi fidandosi del navigatore e soprattutto delle preversioni, certe volte ha svoltato in posti dove è andato a spaccare con un muro. Quindi ci sono problemi, primo, versioni della tecnologia immature che possono condurre a problemi. Problemi che se uno ha un smartphone, se uno ha un po' di cervello, viene. Poi deve saper usare la tecnologia. Uno della mia generazione, probabilmente rispetto a uno di voi, sa usare uno smartphone in maniera molto limitata rispetto a voi. Però, quando si tratta poi di estrarre determinate informazioni, magari ancora ci dipendiamo. Inoltre, i programmi che fanno calcolo anche simbolico, quindi se tu ci metti la derivata, ti fanno anche tutta la derivata con l'espressione analitica. Ma ci stanno in giro da vent'anni, trent'anni. Già da quando andavo io all'università. Allora stavano facendo delle versioni, le prime versioni. Tuttavia, mi ricordo, stiamo parlando di 15-20 anni fa, una volta all'università di Napoli c'era un professore che diceva matematica, adesso fa quasi tutto. E l'altro professore che stava per il seminario, diceva, fagli fare questo. Ah, c'era questa roba, ancora. Infatti, a quel punto lì, c'è sempre un qualche cosa che la macchina non fa. Io adesso vi voglio fare un semplice esempio. Questo esempio è datato. Magari con i computer di oggigiorno uno studente, bravo, si accorgerebbe del problema. Io stesso mi accorsi del problema, intuì più che accorgermi del problema. La cosa mi andò bene, come vedrete, ma diciamo, a uno studente, diciamo, medio, il problema può capitare lo stesso analogo pure oggi. Allora, qual era il mio problema? Il mio problema è che dovevo fare il compito, all'epoca, del mio, compito scritto di analisi u, e dovevo calcolare un'area. Dovevo calcolare un'area, un'integrale improprio, vedremo quando poi vedremo un'integrale. Che era un'area, compresa al di sotto del grafica. Ora, nonostante questa figura non sia limitata, poteva succedere che l'area fosse finita. Allora, faccio i miei bravi calcoli, però adesso non mi serve sapere l'integrale per comprendere quello che sto dicendo. Faccio i miei bravi calcoli, e mi viene un certo valore per l'area, un valore con un po' disponenziale immenso, che è il sogno? Diciamo, approssimato 57,2, ok? Non me lo ricordo neanche. Allora, mi venne però, la pessima idea, intanto mi sa fare gli altri esercizi, dico, però, mi avevano prestato una calcolatrice programmabile, per l'epoca era una cosa rara, che tutti avevamo una calcolatrice normale, non quella programmabile. Infatti, all'epoca, questa calcolatrice programmabile costava mezzo milione, e allora, stiamo parlando del 1981, era un sacco di soldi, infatti me l'avevano prestato, potente. Allora, dico, ho questo strumento potentissimo, glielo faccio controllare a lui, allora, dice, ah, vuoi fare un'area? Sì, in me, da dove a dove? E io ho cominciato da 1, fino a 10, glielo faccio calcolare fino a qui, se mi viene di qui, di 57,2, già lo dico sbagliato, e ovviamente perde tutto questo pezzo qua. Dimmi la funzione, gli scrivo la funzione, dimmi i punti base, cosa sono i punti base? Voleva sapere in quanti intervallini dovevo suddividere il quadro, e io gli dico 10. Allora, lui cosa fa? Applica una formula, poi la vedremo, la formula di Cavalieri-Simpson, e mi calcola l'area dei trapezzi, cioè cosa fa? Congiunge i punti che rappresentano sul grafico il valore della funzione, col punto successivo, e ottiene dei trapezzi. Calcola l'area di questi trapezzi e somma le armi. Ora, come potete vedere, più o meno, o il grafico della funzione, o i trapezzi, la differenza non è molta. Faccio calcolare l'area, me la calcola in pochi secondi, e gli viene, che ne so, facciamo conto 53. Il risultato era coerente con 57,2, è un po' di meno, però fammi controllare meglio, tanto il calcolo dice funziona, mentre io faccio gli altri esercizi. Allora, cosa faccio? Allora, dico qua, calcolo la fine a 100. Allora, punti basi, a uguale 1, b uguale 100, punti basi, 100, come prima ho messo 10, metto 100. Metto la calcolatrice a faticare, io metto a fare gli altri esercizi. Mentre metto la calcolatrice a lavorare, faccio un esercizio, poi passate 10 minuti la calcolatrice non dava nessuna risposta. Dico qua, io che ne so questa, quando riesci a lavorare. Dico qua, qual è l'unica cosa sulla quale potete reagire per fare il calcolo più velocemente della calcolatrice? L'estremo è quello, l'altro estremo è quello, l'unica cosa potete fare e ridurre un po' i punti basi. Allora ci metto punti basi uguali 20, ti faccio fare i conti, dopo un paio di minuti, questa qua risponde, 427. Strizza enorme perché da 53 che andava bene con 57,2 era diventato 427. Panico! Fallo fino a 1000, punti basi, gli metto sempre 20 perché tanto sapevo che se ci mettevo tanti, non piaceva. Faccio l'esercizio, mentre io faccio l'esercizio, lui dopo un paio di minuti mi sponde, 4100 e qualche cosa. Ma sai che l'integrale è diverso. Poi ci rifletto un po', ricontrollo i conti che avevo fatto su quell'integrale, mi sembravano fatti bene, a un certo punto, lì per lì, decido di fidarmi dei miei conti e non della calcolatrice. infatti poi l'esame scritto andò bene, l'esame andava bene. Però, torno a casa, diciamo, non stavo a casa, ma tornò al mio alloggio, come dice, ci penso un attimo, è di così, è così. controllare in quel modo era una flessere, perché? Cosa succede quando tu hai l'integrale fino a 100 e fai 20 punti base? Il primo punto base, gli intervallini quando saranno lunghi? vabbè, 99, facciamo 100, diviso 20 fa 5, quindi il primo intervallino sarà lungo 5, fino a 6, e se vado a 1000, il primo intervallino sarà lungo 50, che arriva a 51. Se vado a 10.000, il primo intervallino sarà lungo 500. Lo capite che succede? Lasciate perdere tutti gli altri intervallini. Il primo trapezio ha una base fissa, un'altezza fissa, scusate, e poi sarebbe la base maggiore, se lo girate. L'altra base minore la potete mettere pure 0, perché tanto non è importante. E poi c'è un'altezza, e qua vedete come base, ma se lo girate diventa l'altezza, che ogni volta moltiplicate per 10, perché se ogni volta l'intervallo di integrazione è aumentata di 10 volte, e però il numero dei punti basi rimane uguale, la lunghezza di ogni intervallino diventa moltiplicata. E allora che succede? Succede che quest'area di questi trapezzi va infinita, cioè in particolare quest'area qui, quella che dovete calcolare, è finita, ma voi mano a mano che allungate il vostro intervallo di integrazione, il primo intervallino, il primo trapezio si mangia talmente tanto di quell'area che da un'area finita, ve la sta facendo diventare un'area di 50 e qualche cosa, ve la sta facendo diventare 500, 5.000, 50.000, 40.000, 400.000, infatti a me mi insospetti, diciamo che dopo le prime due volte, praticamente ogni volta che aumentavo di 10 volte l'integrale veniva moltiplicato di 10. Dico non può essere perché la funzione, per come era fatta una funzione, non poteva essere che ogni volta, perché la funzione non è costante, la funzione è scende, no? E allora non può essere che se la ridico da 0 a 1.000 fa 400, se la ridico da 0 a 10.000 fa 4.000, non può essere, chiaro? E allora intui e lasciai verde, però ovviamente dice la calcolatrice ha sbagliato, no la calcolatrice non ha sbagliato perché la calcolatrice adotta una formula approssimata che per le capacità di calcolo dell'epoca richiedeva, ovviamente se su 10 avevo bisogno di 10 punti di base, su 100 probabilmente avevo bisogno di più di 100 punti di base, su 1000 avevo bisogno di molti più di 1000 punti di base, perché manovare che andava avanti gli intervalini dovevano addirittura ridursi invece che avere la stessa ampiezza, chiaro? Però, siccome la calcolatrice non rispondeva in tempo utile, nonostante fosse all'epoca, all'avanguardia per l'epoca, ma lo stesso può avvenire ad oggi, ad oggi tu, allora il computer che cosa deve essere fatto? Deve essere fatto per estendere le tue capacità mentali, cioè il computer è come un microscopio, il microscopio ti serve per vedere determinate cose che a occhio nuto non puoi vedere e il computer ti serve per fare dei calcoli che a mano non ci riesci a fare, ma tu quando usi il microscopio e vedi determinate figure devi essere in grado di interpretarli e se non hai studiato biologia e le altre materie che devi studiare per interpretare quello che vedi, vediamola in un altro modo, vediamo un tipo di tecnologia che si sa che è utile, però si sa che nessuno ti riesce a leggere, prendete un'ecografia, tu vedi che quello fa, manipola, guarda, dice, fa tutta una serie di considerazioni in base a delle immagini in bianco e nero che uno di voi, o io, non ci capisce niente, però per quale motivo? Perché comunque la capacità dei computer, di calco, dei computer, fino ad oggi, ancora fino ad oggi, di interpolazione di quelle immagini, adesso cominciano ad esserci delle ecografie fatte a colori, si vede meglio le immagini, altre cose eccetera, però alla fine i medici sono affezionati alle macchine che fanno l'ecografia in bianco e nero perché ormai si sono abituati a leggere bene l'ecografia e si dovrebbero ritarare a interpretare l'ecografia fatte tra virgolette meglio con macchine più moderne, invece là sanno interpretare bene i risultati, quindi la tecnologia va, deve essere lei al servizio della persona, ma la persona deve usare bene la tecnologia, deve essere in grado di saperla leggere, guidare e interpretare voi mettereste un fucile ipertecnologico in mano alla persona che non ha mai sparato, farà danni ipertecnologici, è chiaro? Quindi capiamoci bene, cioè analisi 1, si deve sapere perché è la base, cioè questi esercizi si devono fare, perché se non riuscite a interpretare, a leggere, a un grafico di funzione scemo come quello di prima, non va bene, è chiaro? Ecco, quindi... Ecco, quindi... Ecco, quindi... Ecco, quindi... Ecco, quindi...